L'araba felice di cui si parla di sua meraviglia. Esattamente 40 anni fa, come associazione naturalistica Argonauta, abbiamo pubblicato un libretto che ha avuto un certo successo, tant'è vero che alcuni anni dopo lo abbiamo pubblicato. Parlava di itinerari da percorrere a piede, in bicicletta, nei dintorni di Fano. 40 anni fa era un fatto, diciamo pure, ludico, riservato a chi aveva la possibilità, nei giorni festivi o quando la giornata lo consentiva, di conoscere e apprezzare le bellezze e le risorse, la storia e la cultura del territorio circostante, il comune di Fano. Dopo 40 anni, anche meno, il fenomeno del cicloturismo è esploso e muove milioni di persone e miliardi, sottolineo, miliardi di euro in tutta Europa e anche nel resto del mondo dove certe cose è possibile farle. Il convegno nasce anche perché abbiamo la sensazione che alcuni addetti ai lavori non siano pienamente consapevoli delle potenzialità anche economiche del cicloturismo. Per quanto riguarda questo ormai fattore economico che è diventato il cicloturismo e comunque il movimento della bicicletta, non vi è dubbio che è necessità di infrastrutture, cioè di una rete di collegamenti che inevitabilmente deve tener conto che ormai essendo un fattore universale ed europeo la gente si sposta con grande facilità e ha bisogno di avere delle infrastrutture che si possono collegare tra di loro. Quindi occorrono investimenti, occorre cultura, occorre utilizzare al meglio le strutture pubbliche e private che già esistono. L'idea di riutilizzare la ex ferrovia Fanurbino era quella e per questo ottenemmo un finanziamento di 4 milioni e mezzo a fondo perduto dall'Unione Europea. Noi pensiamo e in questo convegno spiegheremo fattori economici ma anche ricadute sociali e culturali nella nostra comunità.